Ora abbiamo la scuola C'è il pochino Dietro, porta, porta, porta Dietro, lo dico ora, sto più dando coraggio Se sentiamo un cazzo di rumore, io es... Io direi di andare Più che altro... Più che altro, a differenza di casa tua, qui non è successo nulla Io non posso far controllare anche il cesso, non c'è niente dentro Ora che c'è la luce, non c'è nulla Ma raga, fatto stacche... Cioè come se non fosse qualcos'altro Sì ma ti ripeto, questo non è GFDK, questo non è GFDK Ma sai ti ricordo per la centesima volta il proprietario ci ha... No, lo so, lo so, ma noi siamo dei pazzi a passi rituali qui E secondo me questo non è GFDK Cioè noi abbiamo spiegato Cioè qui raga c'è tutto e c'è il coltello Questa secondo me non c'entra nulla con il rituale Loro ci stanno prendendo per il culo Perché loro cos'è che volevano che andassimo di là E noi adesso ci andremo Anche perché ormai raga ci abitiamo qui Cioè io rido per me Oh fai a lei che il coltello è qui e tutto Cioè anche perché ti ripeto Tanto sto... E lo lasciano qua? Sì sì ma anche perché comunque non c'entra nulla C'è il rituale Ci sei? No Apriamo? No Raga vedrete voi prima di noi Noi non riusciamo a vedere Non abbiamo più a vedere Mink Oh anzi Che è la porta? Mi piace lo sp... No 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 c'è lo sportello aperto In che senso? C'è lo sportello delle... La riposa Del coso lì come si chiama? Del... Sai qual è? Quello che si è aperto durante il video della tavola qui già Preciso Ma che cazzo c'è là dentro? Quello lì che... Della mezza Quando eravamo là sulla mezzolina Sì di fronte E quello che si è aperto che poi si vide in post produzione È aperto Oh facci caso Ripeto Sembra se fa papo quanto vuoi Ma lo stesso sportello No no credo Vero vero Questo si fa capire che non è... Raga non è... Cioè non c'entra un caso Non è Jeff the killer Andiamo a dire Andiamo Cioè non c'entra un caso Lo so lo so a dire Cioè guarda Cioè 50 sportelli quello No non lo so Non ha senso Dai c'è qualcuno? Sono No Non c'entra un caso È quello basso È vero È quello basso Ok Era quello sotto È quello sotto Ok È poco Un po' Sean Un po' Guarda la cucina C'è raga Tutta la cucina Prova ad andare Senti E' più freddo E' molto più freddo Merda C'è è freddissimo C'è aspetta Ma se ti chiudo che succede No 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 Proviamo a chiudere Proviamo Più che altro dentro non c'è nulla No di No secondo me no Chi c'è qua dentro Proviamo a chiudere Che altro C'è raga E' tutto aperto Tutto qui che c'è la pasta No chiudi C'è Raga Che cazzo era Chi c'è Jeff the killer Cazzo Jeff the killer Come si chiamava quello della tavola Di Non mi ricordo Ma con un nome strano Molto Merda E' YPY No che cazzo era No quello lì era quando gli ho detto di darci il segno Merda Dio C'è a me sta facendo freddo Pure a me Qui si Pure a me Si si Ma perché Che c'è Che cazzo era No vabbè Guarda C'è la luce spenta C'è la luce Fottutamente spenta Non ci credo No 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 Che cazzo dice C'è la luce è nascita E' fottutamente spenta Ah quello lì era già aperto no Cosa Lo sportello Qua Quello laggiù Si 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 Per mettere la torcia a noi C'è scusa mia Merda E senti fa freddo anche qua dentro Ora si Prima no Prima no Prima no Si 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 Merda Dio Dio Porca merda Dio Ho sentito una ventata dietro di me Dio No non è quello Dio ho sentito una ventata Ciccati Dio Porca puttana La porta raga di nuovo Guarda No Che cazzo dici Ma Ma Porca No Dio Anche la porta si è chiusa dietro di me Dio No fra No 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 Oh guarda Non c'è più Raga Qua l'avevi preso Eh L'avevi preso Certo l'avevo ripreso fra C'è il contaviglio L'avevi preso te Si Oh la porta Dio di nuovo No 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 Dio Che cazzo sta succedendo Dio Guarda Si sta tipo Riaprendo Si riapre anche davanti a noi Raga non c'è un P***o di nessuno Raga Non c'è niente Non c'è No vabbè No vabbè No vabbè Non c'è nera luce Non c'è nera luce Cosa C'è L'avevi preso dopo Della porta Io fra Ma perché Io ero così no Così Ti ripillavo E se tu Dietro E quella l'avevo vista Perché sto guardando in là E l'avevo visto Eh no no Io ho sentito Io non l'avevo vista Questa Merda C'è io ero qua Ho visto No per se No per se ce l'aveva per vizio No no ma si è chiusa L'abbiamo laggiù No cioè si è chiusa E si è riaperta No non voglio finire E il coltello ora che ci penso Dove c***o Io ero distratto a guardare qua Che l'avete lasciato qua Sì 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 E l'ho distratto a guardare questo E mi si è chiusa questa davanti Io non lo so Merda Non lo so Non lo so No è dove sarà C***o può essere il coltello Andiamo a vedere se di là è successo qualcosa C***o può essere Successo qualcosa Non lo so Non so che dire Il coltello Potete essere qui magari Come fai ad essere qui Non lo so Gli sportelli che ha aperto C***o io fino ad ora E dove c***o è il coltello Non lo so Non ho idea Porca mi sa che video Io penso sia uno dei video Mi abbia fatto più paura Penso Dopo quello del banti Sia il video Mi abbia fatto più paura Raga No c***o sono il banti Non spezzi Perché Perché lo sai C***o Sì in realtà anche noi A fare un rituale Nella casa Che stava Che stava Che stava Però dillo proprio In questa casa C'è lo spiegamento Sì Sì Ho sentito Ma vieni tipo Vieni da qua sotto La campana Hai sentito? Sì Da qua sotto Di nuovo Sì 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 Tipo l'orologio Stava sentito Un verso No ma anche l'orologio Sì 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 Dobbiamo andare in quel c***o garage Secondo me Però non c'entra nulla A questo video Io Io sto video raga Non so più Su intitolarlo Il rituale Ma senti Ho la serie Della casa maledetta Non ci sto camminando Vedete il video Non me sta fregando Spegniamo sto c***o di video Ma che è? Ce lo senti Cioè Ma senti anche Io sento anche Tipo delle specie Candene Di campane Da qua sotto Non lo sento più Ma tutto che c***o No aspetta Rieccolo Non so che fatti Comunque davvero Penso sia uno dei video più Ancora Ancora Stiamo zitti un attimo Bo io chiederò un attimo sto video Sì Tanto Non è rituale raga Questo non è rituale Ve lo dico io Bo diteci la vostra In commenti Qui da Xpagard E dire tutto E noi c'erano al prossimo video Già Sì 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 Grazie a tutti.